L'Italia resta maglia nera in Europa per la crescita sia nel 2017 che nel 2018. È l'unico paese in tutta l'Unione con un PIL previsto sotto l'1%. Grazie alla manovrina d'aprile, Bruxelles ha però rivisto al ribasso le stime sul deficit, ma fragilità strutturali, banche in testa e incertezza politica restano i fattori di rischio per la nostra economia. Il Movimento 5 Stelle rilancia il referendum sull'euro, chiederemo ai cittadini se stare o no nella moneta europea, dice Luigi Di Maio, mentre entra nel vivo il confronto sulla legge elettorale. Per i pentastellati il punto di partenza resta il legalicum, oggi il PD presenterà la sua nuova proposta. Una vendetta tra clan di Rom dietro il rogo del camper a Roma e la pista seguita dagli inquirenti, le tre sorelle di 28 e 4 anni sono morte nell'incendio appiccato con una molotov. Si cerca l'uomo che l'ha lanciata, ne parleremo tra poco in TG Cronache. Presi i due scafisti che pochi giorni fa uccisero un ragazzo della Sierra Leone perché non voleva rinunciare al suo cappellino da baseball. Avevano tentato di nascondersi tra 400 migranti salvati, sono stati individuati grazie ad un video della ONG MOAS ad Agrigento. Arrestati anche tre nigeriani, se viziavano e stupravano rifugiati nei campi lageri in Libia. Negli Stati Uniti è sempre bufera per il Russiagate, la Commissione d'Intelligence del Senato americano ha spiccato un mandato di comparizione per Michael Flynn, ex consigliere alla sicurezza nazionale che aveva rifiutato di collaborare all'inchiesta. Il Presidente Trump intanto prepara un altro licenziamento, la prossima testa a cadere sarebbe quella del portavoce della Casa Bianca. Sarà il Real Madrid ad affrontare la Juventus nella finale di Champions League in programma il prossimo 3 giugno a Cardiff. Forti del successo dell'andata per 3 a 0 nella sfida tutta madrilena contro l'atletico. Gli uomini di Zidane hanno vinto avanzando nonostante la sconfitta di ieri sera per 2 a 1 nel ritorno. Buongiorno dal telegiornale della Sette, dunque come avete sentito in apertura parliamo di quelle che sono le previsioni economiche dell'Unione Europea che purtroppo ci vedono ancora e ci vedranno in maglia nera per il 2017 e anche per il 2018. C'è in leggero aumento il debito pubblico italiano nell'anno in corso, un aumento che nasce anche da tutte quelle risorse pubbliche che sono state riservate al sistema bancario. L'Unione Europea rivede al ribasso invece il nostro deficit di qualche decimale grazie alla manovrina correttiva. Un'Unione Europea che giudica marginale quello che è il miglioramento nel campo della disoccupazione di quel dato e che chiaramente fa capire che sul giudizio e sulle previsioni per il nostro paese pesano molto i problemi strutturali e anche l'incertezza politica. A volte si dice un'immagine vale più di mille parole e in questo caso la cartina d'Europa che la Commissione allega alle previsioni economiche di primavera è una condanna senza attenuanti. L'Italia come vedete è il paese con la sfumatura di verde più intenso il che purtroppo significa che è l'unico paese in tutta l'Unione con una crescita prevista sotto l'1%. Per la precisione Bruxelles prevede che il nostro PIL cresca solo dello 0,9% quest'anno e dell'1,1% nel 2018. Il confronto con la media della zona euro è impietoso. Nel 2017 infatti i paesi con la moneta unica dovrebbero crescere dell'1,7%, praticamente il doppio di noi. Nel 2018 il divario però dovrebbe ridursi sotto il punto percentuale ma l'ultimo posto in Europa non ce lo toglierebbe comunque nessuno. Però l'Unione ha modificato a ribasso le stime sul nostro deficit grazie anche alla cosiddetta manovrina appena varata quest'anno scende al 2,2% e poi al 2,3% nel 2018. Il debito pubblico dovrebbe invece cominciare a scendere nel 2018 portandosi al 132,5%. Quest'anno invece aumenta leggermente anche a causa delle risorse messe a disposizione per il settore bancario. A presentare queste previsioni è stato il commissario per gli affari economici Pierre Moscovici che dopo aver salutato con soddisfazione il risultato delle elezioni francesi Macron è stata la risposta al rischio populista, ha detto Moscovici e lavoreremo con lui senza pressioni per portare il deficit francese sotto il 3% ha parlato anche dell'Italia. Fragilità strutturali che ben conosciamo, ha detto il commissario riforme fatte in alcuni settori ma non in altri, crisi bancarie, incertezza politica nel senso ha tenuto a precisare che come succederebbe in qualunque altro paese e la possibilità di elezioni a breve rende comunque incerto il panorama politico. Ci sono state comunque parole di apprezzamento per l'azione del ministro Padoan e la concreta sensazione che le misure varate appunto nella recente manovra abbiano incontrato la piena approvazione di Bruxelles. Anche il presidente della commissione Juncker in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt tende una mano al nostro paese. Capiamo la situazione di difficoltà, ne abbiamo rispetto e per questo interpretiamo il patto di stabilità in maniera flessibile. Niente da temere per l'Italia, quanto pare neanche dal fronte Eurotower il bollettino della BCE oggi garantisce la politica economica espansiva è destinata a durare anche oltre l'orizzonte di dicembre. Autentica musica per le nostre orecchie. Dicevamo dell'incertezza politica, di fatto è uno scenario in queste ore particolarmente articolato con i 5 Stelle che rilanciano il referendum sull'euro tutto questo mentre è in corso il dibattito sulla legge elettorale un vero e proprio rebus, una partita a scacchi. Per oggi è prevista la presentazione del testo base che 5 Stelle e anche Forza Italia vorrebbero considerare come base appunto l'ossatura dell'Italicum così come uscita dalla sentenza della consulta il cosiddetto legalicum il PD che finora ha preso tempo oggi farà la sua proposta. Il Movimento 5 Stelle rilancia il referendum sull'euro. Chiederemo ai cittadini se staranno nella moneta europea, dice Luigi Di Maio se resta così prima o poi imploderà e allora è meglio arrivarci con un piano B abbiamo bisogno di un anno per una procedura costituzionale da creare. Parole che arrivano mentre il confronto sulla nuova legge elettorale passaggio ineludibile per andare alle urne entra nel vivo. Se ci sarà l'occasione noi oggi voteremo il testo unificato della legge della Camera così come è poi siamo disponibili a tutte le modifiche ma il caposaldo è che non creiamo grandi ammucchiate premio alla lista e principio di governabilità per noi sono punti fermi vogliamo una legge elettorale entro l'estate insiste Di Maio. Per i pentastellati il punto di partenza resta quindi il legalicum ovvero la legge per l'elezione di Montecitorio così come è stata modificata dalla Corte Costituzionale da estendersi anche al Senato. Oggi il Partito Democratico presenterà la sua nuova proposta affidandola alle mani del relatore e presidente della Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio Andrea Mazziotti. Paolo intesa si deve trovare è chiaro che dopo le riunioni di Forza Italia di oggi e con il Partito Democratico bisogna andare in commissione che si tiene questo pomeriggio vedere come va in commissione e da lì trarremo le conclusioni. un esito positivo deve essere raggiunto perché ne va della credibilità dei partiti, credo. Governabilità, premio alla lista e non alla coalizione sono i paletti del PD su cui sembra poterci essere convergenza con i 5 Stelle. Ma l'intesa non è semplice anche per chi ha Palazzo Madama democratici e pentastellati non hanno numeri sufficienti. La vera novità arriva da Forza Italia disponibile a votare l'estensione al Senato della legge riscritta dalla consulta per la Camera. Oggi dopo un incontro con i vertici del partito Silvio Berlusconi ribadisce con un comunicato i criteri per la nuova legge no a correttivi maggioritari leggi organiche e omogenee per Camera e Senato come raccomandato dal Capo dello Stato no alle preferenze. Intanto le banche restano il tallone d'Achille della maggioranza c'è il PD che guarda ai sondaggi anche preoccupato per quelli che possono essere i riflessi del nuovo caso Boschi Banca Etruria ovvero quell'intervento nel 2015 della loro amministra presso l'amministratore delegato di Unicredit perché valutasse l'acquisizione dell'istituto. Maria Elena Boschi in queste ore ha smentito ha annunciato querele ma arrivano anche nuove ricostruzioni. Il caso Boschi sembra destinato a rimanere aperto e peserà sui futuri equilibri politici ed elettorali. La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio sta partecipando al Nazareno alla riunione della cabina di regia voluta da Renzi per affiatare governo e PD. Una garanzia di sopravvivenza fino al termine della legislatura si spera a Palazzo Chigi dove è evidente l'imbarazzo per il nuovo esplodere della vicenda Banca Etruria temuta anche dal partito di maggioranza. Sulle banche si dice è stato perso il referendum costituzionale e le banche restano il cavallo di battaglia delle opposizioni a partire dai 5 Stelle proprio alla vigilia del voto amministrativo di giugno. Maria Elena Boschi ha smentito e minacciato querele affidandosi allo studio legale di Paola Severino l'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli ha confermato quanto scritto nel suo libro di un intervento cioè nel 2015 presso la D di Unicredit Federico Ghizzoni da parte dell'allora ministra delle riforme Boschi una richiesta di acquistare la dissestata Banca Etruria dove il padre era vicepresidente. Unicredit che pure fece allora un'istruttoria per poi decidere di non farne nulla nega pressioni politiche. Da Ghizzoni nessun commento chi taccia consente si dice ma un chiarimento sembra necessario. Il fatto di oggi rincara la dose parlando di un precedente incontro che sarebbe avvenuto nel 2014 a Casa Boschi presente l'appena nominata ministra tra il padre, il presidente di Banca Etruria Fornasari e i dirigenti di Veneto Banca nel mirino di Banca Italia che propugnava, come per l'istituto Arettino una fusione con la Popolare di Vicenza. Nulla poi accadde ma l'incontro, se confermato testimonierebbe, nonostante le smentite fatte anche in Parlamento che Maria Elena Boschi si interessò alle sorti di Banca Etruria. A questo punto sono alle viste ulteriori smentite e altre ricostruzioni. Intanto la partita politica si svolgerà alla Camera dove i 5 Stelle hanno presentato la richiesta di un'informativa urgente del presidente del Consiglio Gentiloni sul caso con mozione di censura per la Boschi. Ci stanno Lega, Fratelli d'Italia gli ex PD di Articolo 1 che pure fanno parte della maggioranza. A Montecitorio il governo non rischia sui numeri ma il dibattito manterrà un faro sulla vicenda Banca Etruria che il PD parlando di bufala mediatica spera invece di spegnere rapidamente. Ecco, a proposito anche di Banca Etruria andiamo a vedere come l'aggiornamento del piano industriale di Ubi Banca preveda il taglio di un terzo del personale delle tre cosiddette Good Bank acquisite dopo il risanamento. Comincia con il taglio di 1569 posti di lavoro e la chiusura di 140 agenzie la nuova vita di Banca Etruria Banca Marche e Carichieti tre dei quattro istituti andati in risoluzione nel 2015 che dopo essere stati risanati dai crediti in sofferenza sono stati acquistati da Ubi Banca al prezzo simbolico di un euro e una dote di circa 550 milioni di euro per sgravi fiscali. La vendita si è conclusa ieri e la banca bergamasca oggi ha presentato il piano industriale per ridurre entro il 2020 di circa 200 milioni di euro i costi operativi delle tre banche inglobate. Un conto salato per i dipendenti definito come ricambio generazionale dai vertici di Ubi Banca ma questo piano allarma il sindacato autonomo dei bancari per la Fabi infatti i tagli del personale dovranno essere gestiti attraverso i prepensionamenti e le uscite volontarie e non attraverso i licenziamenti. Si conclude così una storia che è ancora sotto i riflettori delle polemiche per il presunto ruolo avuto dall'allora ministro Boschi sulla vicenda di Banca Etruria di cui il padre era vicepresidente ma anche per la perdita dei soldi di moltissimi risparmiatori che avevano investito denari nelle obbligazioni subordinate per la famosa direttiva europea conosciuta come Belin i risparmiatori sono stati chiamati a contribuire al salvataggio delle quattro banche ma dopo le forti proteste per molti di essi il governo Renzi ha dovuto prevedere indennizi automatici o arbitrali vedremo come comincerà il nuovo corso di Cari Ferrara la quarta banca che invece sarà inglobata dalla banca popolare dell'Emilia Romagna intanto ai mercati il piano di tagli di UbiBanca piace e gli investitori da stamattina acquistano a piene mani il titolo portandolo a più oltre tre punti percentuali ma il rialzo di piazza affari la migliore rispetto alle altre piazze europee è determinato dalle trimestrali delle altre banche tra tutte spicca Unicredit indifferente alla polemica politica ma premiata dagli utili raggiunti nel primo trimestre ben sopra le aspettative 907 milioni di euro contro i 612 milioni previsti il timore della perdita del posto di lavoro può portare anche a notizie davvero incredibili come quella che in questo momento arriva dalla Francia dove un delegato sindacale racconta che gli operai hanno minato la fabbrica la fabbrica si tratta di un luogo nel centro della Francia dove gli operai rischiano di perdere il lavoro per la chiusura ormai imminente di uno stabilimento che prende subappalti anche da Renault hanno minato pertanto il sito con bombole di gas adesso parliamo dell'immigrazione sono stati fermati arrestati due scafisti libici che sono sospettati di appartenere a organizzazioni di trafficanti di esseri umani uno dei due addirittura è accusato di concorso nell'omicidio di quel ragazzo il 21enne della Sierra Leone ucciso con un colpo di pistola perché si era rifiutato di togliersi il cappellino da baseball c'è un video che incastra quest'uomo lo vediamo è stato un velivolo del MOAS in appoggio alla nave Fenix a riprendere queste immagini ecco una sequenza di un video che il procuratore di Catania Zuccaro ha definito decisivo per le indagini seduto sulla barca con un giacchetto marrone ben visibile in volto c'è Aladia Buriz Nuredin è uno scafista spietato che nella parte di video che non vediamo salirà su un altro gommone dove pochi minuti dopo verrà ucciso un ragazzo di 21 anni del Sierra Leone Kelly Osman perché si è rifiutato di togliersi il cappellino da baseball e di consegnarlo agli scafisti sarà il fratello in lacrime a raccontare quello che era accaduto alla polizia di Catania dopo lo sbarco dalla Fenix che ha soccorso il gommone in difficoltà ricostruzione confermata da altri migranti che ha portato all'arresto di Aladin Uredin accusato anche di concorso morale in omicidio non è stato lui a sparare materialmente ma la responsabilità di quella morte è anche sua fermato con lui un altro scafista Urunga Far per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina i due trafficanti avevano tentato di nascondersi tra i 400 migranti che sono stati poi salvati la motonave Fenix ci ha messo a disposizione esattamente questi file si tratta sia di foto che di video questi tre nigeriani arrestati invece dalla procura di Agrigento sono accusati di aver commesso torture stupri omicidi nei campi lageri in Libia hanno tentato di nascondersi anche loro tra i migranti sbarcati a Lampedusa il 16 aprile ma le vittime anche se terrorizzate li hanno denunciati uno in particolare ha raccontato di essere stato picchiato sotto le piante dei piedi fino alla frattura mentre un altro ragazzo ha visto morire il fratello per le violenze subite si concludono oggi le audizioni in Commissione Difesa del Senato in Commissione Schengen alla Camera delle ONG che operano nel Mediterraneo tra loro SOS Mediterranei che ha ribadito il suo no alla presenza di agenti della polizia o dell'esercito armati a bordo noi siamo trasparenti non rinunciamo all'indipendenza sul piano umanitario C'è la notizia di un attivista italiano che è stato arrestato a Mosca si chiama Yuri Guayana ed è dell'Associazione Radicale Certi Diritti fermato dalla polizia a Mosca dicevamo mentre si stava recando alla procura generale per consegnare firme raccolte nell'ambito della petizione contro il trattamento dei gay in Cecenia lo fanno sapere il segretario dell'associazione la notizia è arrivata alla Farnesina che ha subito attivato il consolato italiano a Mosca vi terremo aggiornati adesso noi andiamo negli Stati Uniti perché la Commissione Intelligence del Senato americano che indaga sul Russia Gate ha spiccato un mandato di comparizione per l'ex consigliere alla sicurezza nazionale di Trump Flynn ma in questo momento il panorama politico americano è scosso da quella decisione improvvisa senza precedenti di Donald Trump di rimuovere il direttore dell'FBI accusandolo di essere inadeguato per quanto riguarda le indagini sull'email gate in realtà dice l'opposizione dei democratici stava forse facendo troppo per quello Russia Gate che tanto imbarazza e mina l'amministrazione il clima ricorda l'autunno caldo del 1973 quando lo scandalo Watergate iniziò a lambire da vicino la Casa Bianca e i tentativi di insabbiamento del presidente Nixon si rivelarono un formidabile boomerang naturalmente Trump si augura che la storia non si ripeta per il clamoroso licenziamento del capo dell'FBI tuttavia persino tra alcuni senatori repubblicani serpeggia una preoccupazione e cioè che il caso Comey crea l'impressione che l'amministrazione abbia qualcosa da nascondere una cosa è certa almeno secondo le più autorevoli testate statunitensi il direttore aveva da poco chiesto nuovi fondi al dipartimento di giustizia per indagare sui rapporti tra lo staff di Trump e quello di Vladimir Putin e quando il ministro Sessions ha riferito alla Casa Bianca è scattato il licenziamento che Comey ha preso dalla TV come un qualsiasi altro cittadino statunitense la spiegazione ufficiale è che il super poliziotto si è assaltato per aver gestito male l'inchiesta sulle mail di Hillary Clinton quando era segretario di Stato un'inchiesta riaperta e chiusa nel giro di poco tempo ma comunque a ridosso delle presidenziali cosa che fece infuriare la candidata democratica convinta di aver perso le elezioni anche per colpa del bureau e del suo direttore non a caso il partito democratico accusò duramente Comey mettendone in discussione l'integrità cosa che crea non poco imbarazzo visto che oggi invece lo difendono a spada tratta la bufera è in pieno svolgimento e mentre i democratici invocano un super procuratore un repubblicano moderato come McCain chiede una commissione speciale che indaghi sulle presunte collusioni Trump-Putin intanto proprio la commissione del Senato che si occupa del Russiagate ha spiccato un mandato di comparizione per l'ex consigliere alla sicurezza nazionale di Trump Michael Flynn licenziato proprio per aver mentito sui suoi rapporti segreti con i russi Trump si sente tutt'altro che al sicuro ma deve occuparsi anche di altro ad esempio del suo discusso portavoce Sean Spicer che avrebbe le ore contate Trump ne avrebbe abbastanza delle sue gaffe e poi c'è sempre la Corea del Nord che preoccupa e per questo è stata creata dalla CIA un'apposita task force ecco a proposito della Corea del Nord è importante tornare sulla figura del nuovo presidente invece sudcoreano Moon un uomo considerato in grado di cercare di sminare tutte quelle che sono le tensioni nell'area più calda del pianeta per questo forse c'è stato un fatto senza precedenti la telefonata di congratulazione da parte della Cina e già un tentativo appunto di colloquio con Pyongyang che chiede di cessare con la politica troppo aggressiva di Seoul in questi anni nei confronti proprio del Nord una telefonata tra il neopresidente sudcoreano Moon Jae-in e quello cinese Xi Jinping nella quale si è andati ben oltre le congratulazioni di rito Pechino e Seoul ritrovano una visione comune in politica estera in particolare sulla necessità di trattare con Pyongyang il vicino che con la minaccia nucleare non fa dormire ad entrambi i sonni tranquilli i due concordano sulla necessità di migliorare le relazioni e soprattutto di cooperare al meglio per arrivare alla denuclearizzazione della Corea del Nord che a sua volta oggi si è fatta sentire chiedendo al nuovo governo di Seoul di porre fine alle politiche aggressive che hanno caratterizzato gli ultimi anni di potere conservatore che includono anche le esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti da notare che per la prima volta un presidente cinese ha chiamato per felicitarsi dell'elezione di un capo di Stato sudcoreano a dimostrazione di come l'arrivo di Moon sia in grado di spostare gli equilibri in una delle aree più calde e instabili del pianeta andrò in ogni posto per la pace della penisola se necessario volerò a Washington andrò a Pechino a Tokyo e con le giuste circostanze anche a Pyongyang aveva detto Moon nel discorso inaugurale all'indomane della vittoria alle elezioni tenute martedì dopo l'impeachment della presidente coinvolta in uno scandalo per corruzione uno dei primi a chiamarlo è stato proprio Donald Trump invitandolo a recarsi a Washington in tempi brevi invito accettato da Moon per continuare a rafforzare l'alleanza e la duratura amicizia tra i due paesi che fino ad oggi è stata fondamentalmente in chiave anti Pyongyang e la decisione di creare una task force speciale della CIA con il compito di frenare di ostacolare il programma nucleare missilistico di Kim Jong-un dimostra che Trump voglia alzare il tiro ma anche un altro alleato chiave il Giappone vede in Moon una nuova sponda il primo ministro Shinzo Abe il nuovo presidente della Corea del Sud hanno concordato in un colloquio telefonico un incontro da tenersi il prima possibile con all'ordine del giorno neanche a dirlo il problema nordcoreano passiamo allo sport perché la Juventus ha la certezza di quale sarà il suo avversario nella finale di Champions League in gergo sportivo vengono chiamati i galattici nessuna remuntada l'atletico non è riuscito nell'impresa di capovolgere il 3 a 0 dell'andata e il Real Madrid va così in finale dove l'aspetta il 3 a giugno a Cardiff la Juve il passaggio di turno però non è stato così semplice era l'ultima partita internazionale nella bolgia del Vicente Calderon lo stadio dei Colcinieros che il prossimo anno si trasferiranno in un altro impianto i tifosi speravano nel miracolo anche per onorare simbolicamente la storia del club ci sono andati soltanto vicino però dopo appena 16 minuti di gioco l'atletico infatti era in vantaggio per 2 a 0 e ha sognato la clamorosa rimonta inizio infernale di grande ritmo della formazione di Diego Simeone che è andata in gol prima su colpo di testa di Niguic poi sul rigore di Griezmann poi l'atletico non è più riuscito a concretizzare e al termine della prima frazione di gioco è arrivato invece il gol del Real che ha complicato notevolmente un eventuale passaggio di turno il gol lo firma Isco ma il merito è soprattutto di Benzema protagonista di un numero sulla fascia sinistra finisce 2 a 1 nonostante entrambe le squadre abbiano costruito diverse palle gol l'atletico viene eliminato per la quarta volta consecutiva in Champions dalla Real che conquista invece la sua terza finale in 4 anni la seconda consecutiva a fine partita la soddisfazione del tecnico del Real Zinedine Zidane che ora affronterà la sua ex squadra con quei colori sono diventato calciatore uomo come ha detto il tecnico francese che ha trascorso ben 5 anni con la maglia della Juventus posso dire di essere ancora Juventino nel cuore sarà una bellissima finale e loro sono fortissimi è il momento di dare la parola a Caterina Bizzari con crona che si ripartirà dalle indagini sul rogo doloso della camper che a Roma ha visto la morte di tre sorelline di etnia rom grazie a tutti noi ci rivediamo domani buon pomeriggio grazie a tutti